Sono cominciati da qualche giorno i lavori di demolizione del compendio 5 maggio a Riva del Garda con i grandi mezzi meccanici della ditta Misconel. La demolizione degli edifici che compongono il compendio 5 maggio produrrà circa 4.000 metri cubi di materiale inerte da smaltire. Per portarlo nelle discariche dovranno transitare circa 200 camion in due settimane, cosa che inevitabilmente metterà alla prova la viabilità della zona. Una volta conclusa la demolizione, in attesa dell'avvio del cantiere che vedrà la costruzione della nuova ala del liceo Maffei, verrà realizzato un posteggio sull'area rimasta libera, lavoro che si dovrebbe concludere entro la fine del mese di luglio.